Per capire meglio di cosa stiamo parlando, mi collego con Marco Sassoli, professore di diritto internazionale umanitario. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, in un contesto di guerra, per noi profani, potrebbe sembrare una buona notizia quella dei corridoi umanitari. Ci sembrerebbe una cosa positiva. Invece, come abbiamo sentito anche nell'intervento che ci ha preceduto, non è tutto così semplice e così facile. Ci sono dei rischi. Sì, effettivamente. È una buona idea se si tratta di portare aiuti alla popolazione civile. Invece, se si tratta di evacuare e di far partire la popolazione civile, ci sono tre problemi. Prima cosa, che dovrebbero essere volontari. E in una tale situazione, ovviamente, essere volontario non esiste. Sono costretti dalla situazione e questo è inaccettabile. Seconda cosa, chi porta i civili in un altro posto deve poi nutrirli, dargli servizi sanitari e di salute. È sempre meglio se la popolazione civile resta dove vive normalmente. E finalmente, questo aiuta i russi se vogliono attaccare le grandi città, perché se tutti i civili non ci sono più, possono attaccare le città iniscriminatamente, senza violare il diritto umanitario, perché non c'è più persone protette, ma solo combattenti. Quindi io, se fossi ucraniani, non sarei d'accordo che tutti i civili siano evacuati e direi che questa è l'idea del diritto umanitario, che i civili possano continuare a vivere dove vivono normalmente e i belligerenti devono fare la guerra intorno a loro, tenendo conto della presenza di civili. Ammesso che si trovi un accordo e che si riesca effettivamente ad organizzare un corridoio umanitario, ci sono poi anche dei problemi a livello organizzativo, logistico? Sappiamo che manca la benzina, per dire una cosa molto semplice, ma poi non c'è nemmeno un cessate il fuoco. Sì, esattamente. Naturalmente bisogna avere un cessate il fuoco locale per garantire che questi civili non vadano in una situazione peggiore che quando erano a casa loro. E come dicevo, l'idea di base del diritto umanitario è che i civili non devono facilitare ai belligerenti di fare la guerra, ma devono poter restare dove vivono.